La storia di oggi inizia con un'immagine piacevolissima. Un viaggio a lungo sognato con la persona che amiamo, dove è bello fare tutto. Litigare, fare la pace, fare l'amore, esplorare posti nuovi e sconosciuti, soli e lontani da tutto in terra straniera, in un luogo selvaggio, ai confini del mondo, dove non ci sono scadenze, ritmi e ordine. Dove si prende a morsi la vita, almeno per un po', e si stacca la spina mentale. È un viaggio speciale questo, dove puoi conoscere meglio quella persona, quell'amore proibito, che a lungo hai desiderato, ma che ora è lì, ad un passo da noi. E possiamo esplorarlo attraverso quel viaggio. Possiamo assaggiarlo, conoscerne il carattere, le abitudini. Ed è proprio questo che accade all'inizio della nostra storia, e sarebbe tutto bellissimo. Se non ci fosse di mezzo, la morte violenta, Eros e Thanatos. Ma siccome siamo qui, sul canale della mela avvelenata, ecca là. Io sono Fio, bentornati. Questa è un'altra favola, nerissima del nostro paese. È il 3 settembre del 1982, e c'è un camper Volkswagen T2, che cammina sereno sulle strade della bella Sardegna. La musica proviene dall'autoradio, e il paesaggio è meraviglioso, lo sappiamo. Paesaggi incontaminati, selvaggi, e su piscinas, nel litorale di Arbus, è un vero spettacolo. Arbus è la provincia della Sardegna del Sud, 6.000 abitanti circa, un comune piccolo di vocazione pastorale risalente all'epoca romana. Un cuore timido e silenzioso, incastonato come una gemma tra i monti, e in passato molto apprezzato dai Fenici per la sua ricchezza mineraria. Attaccato assiduamente in passato dai Saraceni, oggi fiera dimora dei Sardi. I viaggiatori in quel camper stanno cercando e si aspettano un piccolo paradiso, e lo hanno trovato. A solo mezz'ora di distanza dal centro abitato c'è il mare, Porto Sessini, una spiaggia delle più belle al mondo, con le sue dune di sabbia alte più di 20 metri, color oro, con in cima macchie di vegetazione, insomma uno sbalorditivo deserto europeo affacciato su un mare pazzesco, bello e cristallino. E qui, in mezzo a questa meraviglia nostrana, il Volkswagen T2 si ferma a passare la notte del 3 settembre, a ridosso di un vecchio rudere su un piccolo promontorio, conosciuto come Su Pistoccu, il biscotto. Questi sono anni difficili per il sud, possiamo anche dircelo. La Sicilia è insanguinata dai barbari agguati della mafia, e anche se ci troviamo in Sardegna, beh, le cose non cambiano tanto. Agguati su commissioni tecniche ed indagine, ancora poco raffinate, regolamenti di conti che la fanno da padrone, poco rispetto per la vita umana e per la legalità. Chi comanda e chi vince deve essere per forza il più violento. Ma perché dico questo? Perché i due turisti che sono a bordo del camper non conoscono forse questo aspetto della nostra Italia, forse non ci pensano nemmeno. Loro sono lì per ritagliarsi una fetta di serenità, perché hanno sofferto molto per quella relazione. E a loro basta solo quel silenzio, quel paesaggio selvaggio e dolce allo stesso tempo, la sabbia e il mare. Qui è tutto diverso, sono abituati a rigore, ritmo, a standard di palazzi grigi, parchi incasellati. E invece in Sardegna coesistono il tripudio delle contraddizioni, che sono però emozionanti per il loro cuore. E loro sono felici, felici ancora per poco. Alla caserma di Arbus una telefonata interrompe una mattina normale. Chi telefona è Mario, sotto ufficiale dell'aeronautica. Mario sta portando il suo cane a passeggio tra le strade sterrate che dividono il promontorio su Pistoccu dal mare e del 4 settembre, l'alba. Mentre cammina, nota questo camper adossato contro rudere isolato. Ci butta l'occhio, ma qualcosa attira subito la sua attenzione. Il lunotto posteriore è mille pezzi. C'è proprio un buco gigantesco al centro. Mario si avvicina per controllare, per capire se ci sia bisogno di aiuto. Chiama a gran voce e ilà cerca di annunciarsi, ma non risponde nessuno. Allora guarda dentro, ma ha già i peli ritti sulla nuca perché ha fiutato pericolo e li trova. Sono Siegfried Heilmann e Marie Hayden Elkengeger. Prima di morire in quel camper erano due persone felici. Lui ha 41 anni e lei 27 e quel bellissimo viaggio selvaggio e venturoso di cui vi ho parlato fino ad ora è il loro. Ma a questo viaggio qualcosa o qualcuno ha posto la parola fine nella maniera più drammatica possibile. Lui è un bancario, un lupo della finanza a Monaco di Baviera, un uomo brillante, amante dei piaceri della vita e provetto surfista. Lei è più giovane, ha 27 anni, è introversa, è timida, è innamoratissima. È un assistente sociale a Francoforte. E come vi ho detto, la loro non è una storia semplice perché il loro è un amore che necessita di una fuga, di una pausa da tutto e da tutti. Non siamo noi qui nel nostro canale a metterci a giudicare, io vi racconto solo i fatti. Quindi andiamo al sodo. Siegfried non è un uomo libero, è sposato e ha due figli. Tiene il piede in due scarpe per un po' ma poi la moglie è un tipo attento, lo scopre quasi subito. Ma la relazione tra Siegfried e Marie non è una cosa così, non è mera passione, ma è amore. Ci provano ma non lo controllano, tentano di metterlo da parte ma esplode ancora in mezzo delle violente crisi familiari ed è comprensibile. E allora si va in Sardegna perché c'è bisogno di capire, c'è bisogno di una pausa, nessun pudore in questa terra lontana dal sapore primordiale. Qui la loro vita che necessita di una pausa può per un attimo sospendersi per poter mettere a fuoco solo loro perché loro di questo hanno bisogno. Dunque prima di raccontare dell'orrore dentro a quel camper ripercorriamo brevemente gli spostamenti della coppia sull'isola. Sbarcano il primo settembre a Golfo Aranci con il loro camper e dormono questa prima notte nel camping Mariposa di Alghero. Poi fanno una passeggiata nel centro storico e si dirigono verso sud. Nel pomeriggio sono ad Arbus e acquistano dei panini e una bottiglia di vernaccia da due litri nel negozietto di alimentari di una signora, la signora Bianca Latte. Dopo aver raggiunto il borgo di Monte Vecchio scendono costeggiando la stradina che porta al mare e parcheggiano lì a Portu Sessini a ridosso di un rudere. Sono completamente soli esattamente come desiderano. Sono loro il mare e un vento teso di libeccio che muove delle grandi nuvole grigie che promettono pioggia. Loro però lì sono al sicuro del loro camper. Non sono mai stati così soli e così felici. Fanno l'amore, mangiano i panini e bevono vernaccia. Però qualcosa frantuma all'improvviso il lunotto posteriore del loro nido d'amore e i loro sogni. Basta solo un attimo e il paradiso diviene un incubo a proiettili di vetro e tinte fosche. Quel qualcosa è un fucile a canne mozze. Ma torniamo a quei corpi. Ma torniamo a quei corpi. Mario, il sotto ufficiale dell'aeronautica e poi i carabinieri si trovano davanti a uno scenario apocalittico. La ragazza è nuda e a gambe divaricate con una maglietta buttata sulle spalle e il reggiseno sollevato. Siegfried atterra in magliette mutande con un maglione sopra la testa e hanno del piombo su loro corpi e alla fine la promessa di pioggia è stata mantenuta. L'acqua rende difficile il lavoro sulle orme. Ricordiamoci che siamo negli anni 80, ben lontani dalle tecniche di oggi. L'autopsia fatta a Cagliari conferma che si tratta ovviamente di una morte violenta con un fucile a canne mozze calibro 16. Attenzione. Secondo la ricostruzione la coppia aveva bevuto molto, tanto da essere entrambi alticci e avevano avuto un rapporto intimo poco prima dell'aggressione. Prima viene colpito Siegfried con due colpi. Il primo, esploso da fuori, distrugge il lunotto e lo centra il torace. Il secondo lo prende all'orecchio sinistro. Siegfried è sicuramente in piedi e guarda proprio dal finestrino posteriore quando viene colpito. Mariaide invece viene raggiunta da un colpo alla nuca, un'esecuzione con un asciugamano a fare da tampone. Sul suo corpo vengono ritrovate tracce di violenza nella zona anale. Per lei è stato un vero calvario perché ha assistito alla morte del suo uomo, poi una volta sola l'assassino è entrato dentro al camper e l'ha sodomizzata, infine l'ha giustiziata. Dio mio che orrore. I poveri corpi dei due manti tornano in Germania inizia il loro lungo mistero. Chi li ha uccisi? La scena del crimine è in disordine come se qualcuno avesse frugato fra le loro cose e si parlò molto di questo caso a lungo anche perché quel luogo era un luogo di ritrovo di coppiette e di guardoni. Questi qui sono i giorni del mostro di Firenze ed è impossibile non fare a loro un collegamento perché ci sono diverse analogie tra i delitti del mostro di Firenze e quelli avvenuti in Sardegna. Si pensa ad una sorta di vacanza sarda in bassa stagione da parte del serial più misterioso probabilmente di tutti i tempi. Il caso desta davvero molto scalpore, finisce su tutti i giornali sia i locali che tedeschi e si battono tutte le piste come quella di un delitto commissionato dell'ex moglie del bancario, gelosa e vendicativa. Poi non si trovano soldi italiani nel camper e quindi si pensa anche ad una rapina culminata con una ferocia inaudita e non premeditata. Passano giorni, mesi ed anni. Tutti vogliono risposte, le vogliono i sardi che hanno paura, l'Italia che ha fatto una bruttissima figura e la Germania che mette addirittura una taglia sull'omicida. Alla fine come sempre anche in Sardegna si appiccica una nuova etichetta per definire l'indefinito, quindi nasce il mostro di Arbus senza identità perché ormai ogni terra ha il suo mostro e la Sardegna non fa eccezione. Ma poi nel 1991 al commissariato di Villa Cidro a mezz'ora di distanza da Arbus arriva Felice Maccioni, un nuovo maresciallo che però è già navigato perché ha già lavorato al nord su casi importanti. All'inizio degli anni 90 decide di tornare nella sua Sardegna perché a casa sua. È un uomo scaltro ed è molto competente ed è inquieto perché la sua Sardegna, soprattutto nel medio campidano, è divenuta sempre più violenta. Gang, criminali, smercio, rapine, morti violente, regolamenti di conti e poi casi freddi come quello del camper dei tedeschi che è più famoso. Un uomo come lui non può far finta di niente e quindi inizia a sistemare molte cose, ma il delitto del camper no, niente da fare. È proprio un rompicapo che lo attrae e lo tormenta, ma sembra impenetrabile. Cosa è successo a quei due ragazzi tedeschi? Lui però, questo mostro di Arbus, lo vuole proprio conoscere ed è convinto che l'omicidio dei turisti sia opera della malavita piuttosto attiva della zona e non a caso un giorno pesca un uomo che non è un uomo qualsiasi. Quest'uomo è un pastore di Arbus che gira su una lancia HF rossa, una di quelle macchine che uno come lui non si può in teoria permettere e gira su questa macchina che non si potrebbe permettere con arie decisamente da spaccone. Eppure non sembrerebbe uno con la stoffa del capo, ma uno che si fa notare decisamente sì. Una testa calda che ha precedenti, un uomo pigro e contraddittorio. All'anagrafe questo tizio fa Sergio Curreli e all'inizio degli anni 90, quando Mazzoni rientra in Sardegna, ha circa 30 anni. È un uomo bruno, criptico, arrogante, con un pronunciato monociglio come tratto caratteristico. Ha una moglie Daniela e due figlie minori. Di lavoro non si capisce bene che cosa faccia, qualcosa fa. Ha precedenti penali e guarda caso questa sua macchina, che non è una robetta sobria, fiammeggiante e molto appariscente e costosa, viene sempre notata in luoghi dove ci sono rapine, risse e robe simili. E proprio dieci anni prima del rientro di Mazzoni, guarda un po' nel 1982, quando vengono ammazzati i due tedeschi. Sergio Curreli era un pastore che prestava servizio in un ovile vicino al luogo del crimine. Sarà tutto collegato, pensa Mazzoni? Beh, non si può certamente improvvisare, ma indagare sì. Mazzoni tenta di ricomporre le tessere di questo mosaico e un bel colpo di fortuna arriva dritto tra le sue braccia. Proprio in quei giorni Sergio Curreli è rinchiuso in carcere per alcune malefatte. Cose poco belle che sono state ritrovate a casa sua. Nei giorni e nei mesi che seguono l'arresto, Mazzoni, uomo brillante, capisce che Daniela, la moglie di Sergio Curreli, è un personaggio da considerare. Lo sanno tutti che Curreli tratta malissimo Daniela, le alza le mani addosso, la considera un incapace e la tradisce con molte altre donne. Lei vive nell'ombra rimissiva sottomessa, ma un bel giorno, l'8 settembre del 1993, anche la pazienza di Daniela arriva al suo limite. Sono passati 11 anni dal massacro di Porto Sessini e Daniela si avvicina alla caserma di Villa Cidro e chiede proprio del marisciallo Mazzoni. Ovviamente Daniela viene ricevuta subito. Il marito è in carcere, ma la donna chiede subito protezione perché negli anni quell'uomo è stato capace di costruirle attorno una rete di controllo e malefatte. Dentro c'è finita inevitabilmente anche lei con le sue bambine. Lei e le bambine, spiega, vivono al limite dell'indigenza, sono spesso segnalate ai servizi sociali, mentre lui gira impettito con macchine sportive che non può permettersi. Negli anni è stata picchiata e tradita perché quell'uomo è malvagio ed è un criminale della peggior specie, ma è molto peggiore di quello che Mazzoni ha fiutato. Daniela è ferita, è indignata, le hanno tolto ogni dignità, lui le ha tolto la dignità. Non si tratta di vendetta, ma piuttosto di ristabilire il giusto ordine alle cose per potersi ancora guardare allo specchio. Racconta che suo marito non è un semplice criminale della zona, non è un soldato, ma è il capo. È il capo di una gang di malavittosi molto attivi nella zona di Arbus. Hanno organizzato rapine a banche e uffici postali. È una cosa grossa. Pensate che ci sono affiliati insospettabili, addirittura un puliziato di Arbus che fa la talpa e ruba armi pulite e informazioni ai colleghi, quelli onesti. Quindi tante malefatte, tanto crimine, ma anche la morte. Elargiscono anche questa. E Daniela canta. Nel settembre del 1986 il primo morto è un allevatore della zona. Antonio Frau viene appeso ad una trave con un cappio al collo. Ha picchiato uno dei pastori di Curreli e quindi devono spaventarlo, ma invece di spaventarlo lo soffocano. Ma a un colpo di fortuna il caso viene derubricato come un suicidio. Nel maggio del 1990 il secondo morto è Moldeno Tuveri, anche lui allevatore, che viene preso a fucilate per debiti. Nel novembre del 1999 terzo morto. Gino Melis, un allevatore di Arbus. Questo è un delitto per commissione. Gino è sposato con una certa Rina Ruggeri, una donna che sente odore di separazione e temendo di perdere tutto perché i due hanno una macelleria in comune, decide di far ammazzare suo marito. Il prezzo del lavoro è due milioni di lire e Gino verrà ritrovato morto in macelleria. Ma Daniela continua a prendere tempo perché ognuna di queste persone e di queste vittime è importantissima, ma la bomba vera, quella scioccante, è alla fine. Una dichiarazione che scoppia. Suo marito nel 1982 ha ucciso Siegfried e Marie, la coppia di innamorati tedeschi. È stato lui a sparare prima da fuori e poi dentro. È lui che ha inferito sulla povera Marie psicologicamente e poi sodomizzandola. È stato proprio lui a compiere quella schifosa mattanza. Ma perché? Riavvolgiamo la pellicola. Il giorno prima del brutale omicidio la coppia Siegfried e Marie viaggia spensierata per la Sardegna e non immaginano nemmeno lontanamente ciò che gli aspetta. Mentre però viaggiano a bordo del loro camper succede un incidente davvero spiacevole. Investono una cagnolina, la cagnolina di un pastore del posto. Il nome di questa cagnetta è Gelosa e il nome del pastore a cui è affidata è Sergio Curreli. Gelosa aiuta Sergio ad umare le altre bestie, ovvero le pecore, e lui le è molto affezionato. Pensate che Curreli si è sempre apertamente vantato di questo duplice omicidio sia la stessa sera a casa con sua moglie che con i suoi compari. Sua moglie Daniela era terrorizzata e le informazioni che chiaramente Daniela offre vengono condivise con il sostituto procuratore di Cagliari, il dottor Alessandro Pili, che corre subito in carcere da Curreli per avere risposte. Vuole sapere ogni dettaglio della sua banda, dei furti, degli omicidi, dei due tedeschi. Curreli conferma tutto ma nega il delitto del camper, no, io non c'entro nulla con quello. Dopo le sue dichiarazioni e quelle di Daniela finiscono altre undici persone in carcere, anche la vedova Melis, la mandante, la vedova Franta. Curreli può collaborare con la giustizia ma deve dire la verità e alla fine Curreli dopo tre mesi di silenzio cede. Sì, li ho uccisi io. Mi sono avvicinato di soppiato al camper con un fucile calibro 20 a canne mozze rubato. I due tedeschi erano lì tranquilli, facevano l'amore sul divano. Ho aspettato che finissero e che il tedesco si alzasse e ho sparato un primo colpo attraverso il lunotto posteriore. Poi sono salito e ho colpito ancora l'uomo. Poi mi sono dedicato alla donna. Lei era prona sul divanetto, nuda e immobile, sotto shock. Provai il desiderio di possederla così, in quella posizione. E così mi sono sbottonato i pantaloni e l'ho fatto, davanti al corpo del suo uomo. Lei guaiva dal dolore, sembrava quasi la mia cagnetta gelosa. Poi l'ho appoggiato un asciugamano alla nuca e ho fatto fuoco. È vero, ero furioso, mi volevo vendicare per gelosa. Dopo aver investito la cagnetta, i due tedeschi avevano litigato con Sergio e si erano offesi pesantemente. Quindi lui, mentre loro proseguivano, li aveva seguiti. Le aveva visti parcheggiare per la notte e aveva deciso di agire. Al termine della mattanza, che non ripeto, era uscito come se nulla fosse e aveva buttato l'arma nel pozzo di una miniera, la miniera di Ingurtoso. Però questa dichiarazione, per quanto per me sia abbastanza attinente, non convince tantissimo gli inquirenti, perché ci sono i punti che effettivamente non tornano. Ci sono delle incongruenze. Quella più grossa è il calibro dell'arma, perché secondo Sergio è un calibro 20, mentre la prima perizia era calibro 16. Inoltre, Sergio non riesce a descrivere bene come fosse fatto l'interno del camper e si ricorda che la ragazza avesse capelli biondi, mentre invece li aveva neri a caschetto. Durante il dibattimento, Correlli nega nuovamente tutto, ogni delitto. Lui, in tutti i delitti citati, c'era, è vero, ma aveva solo assistito. Per quanto riguarda i tedeschi, ritratta tutto e continua a negare. A un certo punto, effettivamente, la piega del processo prende una piega a suo favore, perché lui viene considerato sì un criminale, ma non un criminale così, passatemi il termine, così brillante. Non il mostro di Arbus, ma a caso mai un rubagalline. Uno spaccone, un mitomane, ma sicuramente non un lucido e spietato assassino. E poi perché ha parlato di calibro 20? Il presidente della corte d'assise, dopo 34 udienze, predispone una nuova perizia balistica. E Correlli aveva ragione. La perizia del 1982 era sbagliata. Il calibro del fucile a pompa è proprio un 20. La misurazione avviene materialmente in aula. Tutti sono in silenzio. È un calibro 20, dichiara il perito in tono neutro. Il primo perito aveva calcolato male i millimetri della borra repertata. Un avvocato si lascia sfuggire quasi un'imprecazione, ma Correlli, dotato sicuramente di poca agilità mentale, esulta. Perché aveva ragione lui, ma a magra consolazione, questo dettaglio lo condanna. Viene condannato all'ergastolo e scivola nell'oblio. Oltre a lui altri 12 imputati sono dichiarati colpevoli e ogni pena viene confermata in appello in Cassazione. Finisce così, in maniera tanto tragica, una fuga d'amore, da molti considerata egoista, sbagliata, ma che per Siegfried e Marie era tutto in quel momento. Solo loro in quel mondo selvaggio, incontaminato, occhi negli occhi, fino a quella tragica fine. Mi sono chiesta, ma quali decisioni avrebbero preso al tarni di quella parentesi? Una parentesi interrotta con il sangue, ancora una volta, dalla malvagità dell'uomo, dalla vendetta, dalla legge del più forte. Conoscevate il delitto del camper di Arbus? Fatemelo sapere nei commenti. Noi ci vediamo come sempre ogni martedì alle ore 20.